Allora c'è stata una bella donna che ha circa 47 anni, sta pure in grana, si accorge che praticamente c'è il seno che gli sta a calare una cifra, ma una cifra, una cifra, una cifra. A un certo punto va da un chirurgo plastico, mi fa senta guardi io ho un problema, io il mio seno, io sono ancora giovane, il mio seno è veramente molto calato. Allora il medico mi fa vabbè vediamo un attimo di che si tratta, questa per la camicetta effettivamente c'è proprio due pedalini, questa moscia, quella là il dottore di Pia che comincia a fare. Guardi qui c'è un problema che oltre al decadimento della pelle è proprio il muscolo che qui è andato, ma neanche c'è la chirurgia plastica, mi dispiace signora, niente da fare, però c'è un nuovo metodo se lei è disposta, fate che si tratta, mi dica guardi io non ho problemi. Allora è una nuova crema che abbiamo sperimentato negli Stati Uniti, praticamente lei questa crema la deve spalmare sulla parte interessata, però il trattamento ha effetto solo se viene effettuato tutti i giorni rigolosamente alla stessa ora e nello spalmare questa crema deve fare dei movimenti circolari, cantando O Sole Mio. Guarda questa che fa, guardi io ormai sono disperata, sono disposta a tutto, insomma gli dà sta crema e questo è il primo giorno, ai 5 di pomeriggio, arriva davanti allo specchio, si arsa la maglietta, si mette sta crema e comincia a fare. O sole mio, stiamo pronta a te, è il primo giorno, è il secondo giorno, è il terzo giorno e il quarto giorno effettivamente si accorge che il seno è veramente più solo, diciamo vedi funziona, il segreto, il sole mio, tutti i giorni così, ma che succede che il giorno devi partire per un viaggio e pian treno, sta a bordo di sto treno, mentre sta a leggere il giornale, capito, si mangia uno snack, guarda l'orologio e si accorge che sono i 5-5, a questa gli viene in corpo, dice oddio il trattamento, vede subito il tubo di crema e comincia a correre verso il bagno del treno, arriva al fondo al vagone, apre, però il bagno è occupato, comincia a bussare, apra, apra e dentro c'è questo è un prata di isperazione, fonna la porta, infilata il bagno, gli fa, non ci faccia caso, questo suona la tazza, non ci faccia caso, sarsa la maglietta, vede Instagram e comincia a fare, o sole mio, sta a fronte a te, quello suona la tazza, guarda, fa così, ma perché già sono i 5, yamme, 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 yamme.